Musica 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 Si sta facendo da navigatore, sempre dritto, tutto dritto Poi a destra, al centro, continua Miliano signori, ciao a tutti Bravo Oh bravo Vi potete allargare che se no non entrano tutti Questo è quello che vogliono Portare avanti E portiamo avanti ormai da sette anni Si, mi giro Eccola qua La Croce Rossa Tutta l'equip La Croce Rossa del Gemelli Ci siamo E allora Tirate le piedi Tirate insieme Grazie ragazzi Grazie Bazzati un pochino Bazzati un po' Ok, grazie 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 a voi signori Buona giornata Buon lavoro Grazie Gli incontri Ragazzi Buon lavoro Buon lavoro Buon lavoro Buon lavoro Ragazzi questo mi ha indossato la mia mano Allora quando siete pronti ditemelo campo numero 8 Partitona Ci siamo? No ha detto uno Due Due sette Allora vai Adesso sono due Allora ricordiamo No 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 Grazie.